Dopo la richiesta di 20 rinvii a giudizio nell'ambito dell'inchiesta su Banca Etruria per Banca Rotta di cui 10 per fraudolente e 10 per colposa, il lavoro del pool guidato dal procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi prosegue sul secondo filone legato sempre alla Banca Rotta. L'obiettivo è far chiarezza su un'alta tranche di finanziamenti concessi dall'Istituto di Credito Aretino e mai rientrati, che avrebbero appunto causato il crack. Si tratta dei 45 milioni di credito che sarebbero stati concessi anche a nomi importanti del panorama imprenditoriale italiano. Tra questi ci sarebbe, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, il gruppo facente capo a Francesco Bellavista a Caltagirona attraverso l'operazione Porto ed Imperia, che ha coinvolto Acquamare, società controllata dal gruppo Acquamarcia. Per quanto concerne invece il filone della truffa, i primi processi e i circa 40 imputati tra dipendenti e direttori di filiale sono in calendario per il periodo autunnale, con udienze ancora da fissare.